come ci senti per questa prima partita dei grandi costi fuochi ci sono oggi mi sento alla grande spero che la febbra dei ragazzi la vedo la vedo bene titolare dal primo minuto quando arrivava la nostra testa c'è nel campo da loro non abitiamo ma è sicuro quando arriva la palla è altra cosa si è vero si si è rosso lo 100 metri è rosso siamo nel 2 fatti riempiti dagli altri prima devi stare in copertura devi tornare da te quando esterno c'è potrà no perchè comunque si sa è saltato guardatevi mesi a cominciare no? è Razzino se nel caso sbagliato ognuno di noi ci dobbiamo incoraggiare il numero d'arma è il nome il poster professionale questo è sport unico tifoso ragazzi siete carichi? te ne puoi aiutare te ne puoi aiutare Cristiano sei carico? yes forza ragazzi in bocca al lupo in bocca al lupo in bocca al lupo in bocca al lupo stai in panchina dopo ho dubbietta per voi come domenica l'unica più importante dell'Europa andò già come tu meritavo rispetti le scelte del mister rispetto rispetto forza ragazzi in gi- espevo trasero arrivo che è oh che sta? finalmente è arrivato il primo dopo due quasi gol arriva il gol che cosa hai da dire? forza sparta forza sparta il prete ex calciatore siamo venuti a vedere questa partita io e malamente noi un corvino molto amareggiato che cosa è successo? grazie per il conto ci sono pensavo di essere a giocare al cincin a giocare dicci massimo massimo ci infidiamo alle tue geometrie vai massimo già sento il guambe? grazie 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 grazie